C'è stato sicuramente e ci sarà purtroppo un aumento di richieste che riguardano queste patologie, sia di richieste di aiuto ma anche per patologie che si aggravano, che diventano più gravi e che comprendono ragazzi sempre più giovani. Effetto coronavirus o meglio effetto lockdown, restrizioni e isolamento forzato sono diventati nemici di chi già combatteva con la patologia del disturbo alimentare ma ha anche creato nuovi casi. Il rimanere a casa, l'uso massiccio dei social, la pandemia, quale fattore scatenante di stress sono degli elementi che hanno contribuito. Nuovi casi in particolare li stiamo vedendo in questa seconda parte dell'anno. Sono ragazze che hanno cominciato ad avere un disturbo nella fase del lockdown più serrato. probabilmente su una base di vulnerabilità loro fisica e psicologica. Il centro di riferimento provinciale per i disturbi del comportamento alimentare e del peso in questi mesi anche in piena pandemia è rimasto sempre aperto accogliendo le pazienti più fragili anche in dei hospital. Ed ora si punta anche all'assistenza domiciliare. Resta il fatto che il covid avrà inevitabilmente delle ripercussioni sulla salute mentale. In particolare tra i soggetti più fragili al riguardo si stanno avviando diversi studi. La popolazione media ha vissuto un aspetto di stress cronico e vive tuttora uno stress cronico determinato dal fatto che di fronte a uno stato di pericolo, pericolo per la propria salute, pericolo di un nemico non visibile, si è trovato inizialmente ad avere una sana reattività che noi chiamiamo ansia acuta adattiva, quello che viene definito noi chiamiamo eustress, cioè un qualcosa di adattivo e costruttivo di fronte a una situazione di pericolo. Il protrarsi nel tempo ha ovviamente portato ogni soggetto ad esaurire anche tutte le parti di risorsa. Quindi valutiamo le difficoltà e le ricadute anche in base a quanto forte è l'impatto e quanto noi riusciamo a tollerarlo e a gestirlo.